Grazie Giulio, grazie a voi. Sono un po' emozionato perché sono tre anni e mezzo che non calcavo questo territorio. Ho rivisto molto volentieri, sto rivedendo molti di voi. Noi stasera abbiamo un po' di immagini da vedere, vi raccontiamo qualcosa e soprattutto vorremmo mettere in comunicazione chi a livello di associazioni sta facendo un lavoro sul territorio che viene sostenuto con i fondi dell'8x1000 gestiti dalla Chiesa Valdese e la realtà della nostra comunità che è una comunità cristiana, una comunità evangelica. Allora la prima cosa che vorrei farvi vedere prima ancora che inizio a parlare è un video, un video che si trova su YouTube, YouTube è il grande canale dei video liberi su internet. Molta della comunicazione che stiamo facendo viaggia attraverso internet e naturalmente questo è un impedimento per coloro che non sono alfabetizzati e tecnologizzati per usare questa forma di comunicazione. Però bisogna dire che ci ha messi in comunicazione con un pubblico vastissimo che ci sorprende, abbiamo dei segnali che veramente ci sembrano incredibili della possibilità di essere conosciuti tramite questa realtà di comunicazione e la rete e questo video è una presentazione di tre minuti e mezzo della Chiesa Valdese e del perché utilizziamo nel modo in cui vi spieghiamo questa sera questo finanziamento che è un finanziamento pubblico che deriva dalle tasse dei contribuenti italiani, una percentuale delle tasse di tutti noi. Ogni anno aumenta il numero dei contribuenti italiani che destinano il loro otto per mille alla Chiesa Valdese, l'unione delle Chiese Metodiste e Valdesi in Italia. In Italia i valdesi e metodisti sono circa 20.000, eppure i contribuenti che hanno firmato a favore della loro Chiesa sono 570.000, un dato sorprendente. Come si spiega? Qualcuno apprezza la trasparenza con la quale viene pubblicato un dettagliato resoconto di come si utilizzano le somme ricevute dallo Stato. Altri apprezzano che i fondi siano spesi al 100% per finanziare progetti sociali, educativi e culturali realizzati in Italia e all'estero. Nel 2013, dei 37 milioni ricevuti, il 50% sarà investito in oltre 350 progetti realizzati nelle aree povere del mondo e l'altra metà finanzierà oltre 450 interventi sociali, educativi e culturali in Italia. Altri ancora firmano per la Chiesa Valdese perché sanno che è una chiesa povera e impegnata per i diritti di tutti, la cui storia è iniziata otto secoli fa con la predicazione di Valdo, un mercante della città di Lione, in Francia, che fece una scelta di povertà per essere libero di predicare l'Evangelo di Gesù Cristo. Una storia segnata da persecuzioni e discriminazioni fino all'emancipazione del 17 febbraio 1848 e il successivo sviluppo dei diritti civili in Italia, culminati con la Costituzione repubblicana del 1948. Un cammino che nel 1975 si congiunge, attraverso un patto di integrazione, con quello avviato in Italia sin dal 1861 dalle Chiese Metodiste, sorte da un movimento di risveglio sviluppatosi nell'Inghilterra del Settecento dalla predicazione di John Weasley e rapidamente diffusosi in molti paesi del mondo. Ma cos'è oggi la Chiesa Valdese, che dal 1975 si è integrata con la Chiesa Metodista italiana. È una comunità di cristiani evangelici che si fonda sulla sola autorità della Bibbia, predica un rapporto personale con Dio, vive il sacerdozio universale dei credenti e si basa su un'organizzazione democratica. Una Chiesa aperta, impegnata per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Una Chiesa che da 40 anni consacra le donne al pastorato, accoglie e riconosce le coppie omosessuali, dedica energie e risorse al servizio per gli altri. Una Chiesa che difende il principio costituzionale della laicità dello Stato e riconosce il pluralismo religioso che si sta affermando anche in Italia. Una Chiesa impegnata nel dialogo ecumenico e interreligioso. Una Chiesa che gestisce un centinaio di istituzioni educative, sociali e culturali in tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte, e che confida solo nel sostegno dei suoi membri per finanziare le sue attività di culto, pastorali e spirituali. Non un euro delle somme percepite dall'Otto per Mille viene utilizzato per la predicazione e l'azione pastorale. Una Chiesa al servizio degli altri, che con i fondi dell'Otto per Mille è impegnata a sostenere tanti progetti per la cooperazione, lo sviluppo, la pace, l'alfabetizzazione, la lotta alla fame nel mondo, con la firma di molti, anche la tua. Abbiamo deciso di fare questo video perché a un certo punto ci siamo resi conto che nel grande pubblico molti ci scambiavano per una società filantropica, cioè un'associazione che distribuisce denaro per il bene delle persone, tipo la Fondazione San Paolo. e noi ci siamo detti, va bene, in effetti la quota di 8 per Mille che i contribuenti italiani in Piemonte, sapete quanti? L'8% dei contribuenti che fanno una dichiarazione dei redditi ha nel 2009, sono gli ultimi dati che abbiamo, scelto di affidare l'8 per Mille delle proprie tasse personali alla Chiesa Valdese. Noi in Piemonte non siamo l'8% della popolazione, siamo molto di meno. A livello nazionale 572.000 persone, il 3,01% dei contribuenti, cioè delle persone che fanno la dichiarazione dei redditi. A livello nazionale siamo molto meno del 3%, siamo lo 0, prefisso telefonico come direbbe qualcuno. Questo pubblico, una parte di questo pubblico, ma anche chi non firma per noi, può avere la sensazione per il nostro modo di utilizzare l'8 per Mille che non siamo una Chiesa, ma siamo una società che fa del bene, un'associazione filantropica. E allora abbiamo deciso di fare questo video per cominciare invece a spiegare che no, siamo una Chiesa, come dice il video, evangelica, una Chiesa cristiana, protestante, che ha le sue radici in tempi molto lontani, che ha deciso che comunque povera era e povera resta, nel senso che si regge con le proprie risorse, con le risorse che vengono date dai membri di Chiesa e degli amici e dei sostenitori, che è il nostro modello che noi vorremmo fosse vigente in Italia anche per tutte le religioni, così come è per le associazioni e dovrebbe essere anche per i partiti. Io sostengo chi le associazioni, i raggruppamenti in cui credo, dal punto di vista religioso, politico, ideologico, sociale, perché ci deve essere un finanziamento di tutti i cittadini che va a sostenere quelli che sono sostenuti da qualcuno che ha quelle idee, che ha quella confessione, che ha quell'ideologia. Quindi noi siamo una Chiesa un po' strana per l'ambiente culturale italiano che invece ha sempre pensato che la Chiesa prende e non dà. Riceve sostegno pubblico, ha delle pretese, offre naturalmente dei servizi importanti sul territorio perché nessuno nega l'apporto degli oratori, delle opere sociali, degli interventi caritatevoli della Chiesa, naturalmente quella più conosciuta degli italiani, quella cattolica, ma noi abbiamo scelto, primo, di accettare questo contributo pubblico dei cittadini italiani, ma che ci viene tramite lo Stato, a condizione di poterlo restituire in servizi, in azioni educative, culturali, sociali, in Italia e anche nel mondo. Perché? Perché alla base della Chiesa Valdese c'è una storia lontana, una storia che assomiglia un po' a quella del più noto San Francesco d'Assisi, una scelta di povertà. Verso la fine del 1100 in Francia un agiato borghese, Valdesio, Valdo, un mercante di Lione, ha una grave crisi di coscienza, esattamente come Francesco di Assisi, questo invece è Valdesio di Lione, e entrambi capiscono che c'è un problema nella loro vita che deriva dall'erichezza, cioè dall'agiatezza economica che comprime i valori dello spirito. Loro fanno una scelta di povertà. E ritengono anche, loro, entrambi, che un problema della Chiesa del loro tempo è l'agiatezza, è la tranquillità, è il rapporto con il potere. Una Chiesa discepola di Gesù Cristo non dovrebbe essere così. E fanno una proposta alla Chiesa del loro tempo, entrambi, identico, non si conoscono. Valdesio è un po' più vecchio di una generazione, un pochino meno rispetto a Francesco, fanno una proposta che naturalmente non viene accolta dalla Chiesa di quel tempo per vicende varie, che adesso non definisco di più, ma se volete si può fare. Francesco viene messo tra parentesi facendogli fare un ordine religioso che appunto limita la sua proposta di Chiesa povera, indipendente, autonoma, nell'ambito di una scelta monastica, che non riguarda tutta la Chiesa che rimane invece stabilita, ricca, potente. A quel tempo non si parlava di PIL prodotto interno lordo, ma l'Europa aveva un PIL prodotto al 70, quasi 80% da proprietà ecclesiastiche. Quindi qui stiamo parlando di una Chiesa molto ben stabilita. Potete immaginare che fortuna poteva avere una proposta di spogliamento, di spogliarsi in quell'epoca lì. Valdesio ha una sorte un po' peggiore, non gli viene concesso di fare un ordine monacale perché lui lo rifiuta. Lui dice che i laici battezzati hanno una responsabilità di testimonianza esattamente come i chierici, perché devo fare un ordine monastico, noi vogliamo la libertà di poter predicare, libero e predicare, appunto in latino. La libertà di testimoniare la nostra fede. Che cos'è? Quale responsabilità ha un battezzato se non di dichiarare la propria fede in Gesù Cristo come la ritiene? Naturalmente lui la riteneva in modo talmente contrario a quelle che erano i poteri del tempo, che viene considerato pericolosissimo, messo al bando lui e i suoi, che si chiamano poveri di Lione. Sono poveri perché hanno voluto farsi poveri e per il potere dell'epoca era una proposta appunto rivoluzionaria, pericolosissima, messi nel catalogo delle eresie e vissero in clandestinità, in semi clandestinità, i valdesi per secoli in una situazione difficile. Arrivarono su questi monti, anche da queste parti vicino, non si sa bene quando, verso l'inizio del 1300 comunque attestata la presenza dei valdesi nell'area del Pinerolese, che chiamiamo anche Valli Valdesi, però anche un pochino in Val di Susa, Soprameana è sicuro che c'erano nel 1300 già dei valdesi, cioè coloro che ritenevano che questa proposta fosse una proposta cristiana valida per tutti ma che purtroppo non era stata accolta. Nel tempo, nei secoli le cose cambiano, repressioni crociate, a un certo punto nel 1686 vengono sradicati completamente, la pulizia etnica che noi abbiamo conosciuto nei Balcani di cui si parla, in alcune zone dell'Africa, fu fatta anche nella zona qui vicino a Giaveno nel 1686, tutti via, o ammazzati o imprigionati o esportati all'estero, delocalizzati in Svizzera e soprattutto in Germania. Tre anni dopo, con una spedizione militare molto audace, c'è il glorioso rimpatrio dei valdesi, riaccuperano le loro terre, ci sono varie vicende politiche che riguardano i Savoia, insomma possono in parte rientrare nelle loro terre del Pinerolese finché arriva nel 1848 le lettere patenti di Carlo Alberto che dà ai valdesi le libertà civili, i valdesi diventano italiani come tutti gli altri, partecipano al risorgimento, si estendono in tutta Italia, fondano comunità dappertutto, 1878 a Coazze, possono uscire solo nel 1848 da quello che era il ghetto delle valli, pochi anni dopo sono qui, sono a Coazze, fondano una comunità, un tempio che c'è ancora oggi di fronte al municipio di Coazze, un po' succede in tutta Italia e così arriva la vicenda fino a oggi. Una chiesa cristiana, evangelica, che ha voluto mantenere pur nei cambiamenti dei secoli alcuni principi che sono quelli del 1200. Primo il fatto che la chiesa è una chiesa povera, perché la chiesa di Gesù Cristo non può essere una chiesa ricca, una chiesa ricca contraddice l'Evangelo perché nella predicazione di Gesù ci sono tanti di quei versetti che parlano della tentazione della ricchezza, per cui non è che la ricchezza sia il demonio, ma la chiesa sicuramente non può essere una chiesa ricca, è una contraddizione ineliminabile. La chiesa deve essere e deve mostrarsi con semplicità, con sobrietà, con povertà, essere vicina a chiunque, soprattutto le persone più fragili, perché per questi prima di tutto è venuto Gesù Cristo. Dunque non ci può essere né nelle apparenze, né nell'organizzazione, né negli stipendi, né nelle risorse, la ricchezza di cui invece in Occidente, la chiesa d'Occidente, sappiamo, ha avuto sempre. Quando si è trattato di decidere se utilizzare l'otto per mille, noi abbiamo fatto la scelta di dire va bene ma a condizione di poterla restituire agli altri. Mica è stato semplice, perché il governo interno era perplesso. Ma come l'otto per mille serve per finanziare lo stipendio dei preti e voi lo volete ma non per questo? Non lo so se si può fare, ci hanno detto. Perché l'otto per mille nacque dopo il nuovo concordato per sostituire la congura che era l'assegno pagato direttamente ai preti dallo Stato. Il nuovo concordato cambiò il meccanismo, non ci fu più questo mantenimento diretto, la ragioneria dello Stato emetteva gli stipendi per i paroci. Non ci fu più questo meccanismo e il governo Craxi dice referendum popolare. Tutti gli anni la chiesa dimostra di avere l'appoggio della popolazione che gli dà i soldi e se no non avrà i soldi. E l'otto per mille è stato creato per sostituire questo stipendio. Oggi serve per fare molte altre cose in più, non solo per quello, ma il governo ci disse ma non sappiamo mica se si può fare. Noi diciamo allora niente, però secondo noi si può fare, perché no? E siamo stati i primi che abbiamo posto la questione. Se questo meccanismo può essere utilizzato anche da altre chiese, noi vorremmo avere questa libertà. Ci fu una lotta durissima e ancora oggi vi dico, anche a voi associazioni, che vi diamo un contributo, è una cosa che suscita qualche problema. Quando noi incontriamo ogni tre anni la commissione governativa che fa il controllo di come sta andando l'otto per mille, ci dicono ma proprio voi insistete su questa... Alcuni anni fa ci hanno per esempio limitato la platea degli enti esterni a cui noi possiamo dare l'otto per mille, non lo possiamo più dare ai comuni, perché noi prima qualche comune che aveva qualche bel progetto lo sostenevamo con l'otto per mille. E no, ci dissero, non allargatevi troppo, perché guardate la vostra legge cosa c'è scritto, attraverso gli enti interni della Chiesa Valdese, oppure associazioni ed enti ecumenici. Il comune non è un'associazione, un ente ecumenico, non gli potete dare soldi. E quindi per esempio avremmo potuto andare avanti molto su questa strada per finanziare piccoli progetti sociali e culturali che sono quelli su cui i comuni hanno qualche difficoltà, vero? Assolutamente. Ecco. E invece il comune di Giaveno, come altri, cosa fa? Va a battere cassa alla Fondazione San Paolo, grazie perché senza la Fondazione San Paolo noi non avremmo servizi in Piemonte, non avremmo servizi, meno della metà dei servizi che abbiamo oggi, quindi ringraziamo. non può accedere a un contributo di 8 per 1000 perché non si può. Le fondazioni, noi facevamo, approvamo progetti fondazioni, per esempio quelle per la ricerca scientifica, altro settore che in Italia soffre e piange. Non lo possiamo più fare. Non allargatevi troppo, ci hanno detto. Le fondazioni no. Leggetevi la legge e c'è scritto quello. Perché già essere riusciti a ottenere che non fosse utilizzato solo per noi ma potesse essere dato anche ad altri fu una conquista faticosissima. Perché? Perché ovviamente il confronto con chi lo usa solo per sé è talmente stridente che fa problema. Questa è la cultura che c'è in Italia. Quindi noi, faticosamente, cerchiamo di fare in modo di condividere con compagni di strada, alcuni sono presenti questa sera, questa responsabilità sociale, questa restituzione di una piccola quota significativa, ma piccola quota, l'otto per mille di quello che noi paghiamo allo Stato sotto forma di servizi che vengono poi moltiplicati perché le associazioni, ma anche gli enti delle nostre chiese ci mettono dell'oro di risorse umane, di intelligenze e anche di risorse economiche. Per cui in realtà questo otto per mille viene restituito moltiplicato alla società italiana e a tanti posti nel mondo che ricevono questo contributo tramite noi. Perché lo facciamo? Non perché siamo una società filantropica, ma perché siamo una chiesa evangelica legata, ci sentiamo legati ancora, ai principi del cristianesimo apostolico che secondo noi sono fondati nella predicazione di Gesù, che si riferiscono appunto a quello che è il Vangelo. Lo facciamo perché siamo cristiani, non solo perché amiamo gli altri. Naturalmente i cristiani amano gli altri, però lo facciamo perché siamo una chiesa cristiana. Questa scelta di povertà significa che noi oggi abbiamo una gestione importante di soldi, importante per noi che siamo piccoli, lo avete sentito, quasi 38 milioni di euro quest'anno da distribuire in un solo anno. Metà vogliamo farlo in Italia, metà nel mondo, ma la nostra chiesa ha mezzi ridotti perché neanche un euro di questi soldi vengono utilizzati per il supporto dello stipendio dei pastori, per le chiese. Ci siamo rifatti il tetto della chiesa di Coazze con un contributo che ancora non abbiamo visto. Quanti ci dà il comune di Coazze? 5 mila euro, ne abbiamo spesi 90 mila e qualcosa con i nostri soldi. Non un euro di otto per mille, non un centesimo. Questo quindi è una scelta che viene dal fatto che concepiamo così il cristianesimo. Secondo aspetto, siamo una chiesa democratica, lo avete sentito, le scelte vengono fatte insieme, noi pensiamo che la comunità di Gesù Cristo è una comunità fraterna, in cui i battezzati hanno una responsabilità comune, poi ci sono ministeri diversi, servizi diversi, ma non è che uno comanda e gli altri ubbidiscono. Si decide insieme perché Gesù dice di chiamarci fratelli e sorelle tra di noi. E tra fratelli e sorelle cosa fate voi a casa? Discutete. Magari vorreste comandare, ma bisogna discutere, perché si è fratelli e sorelle, faticosissimo, faticosissimo. Ma neanche i pastori possono decidere. Io quando parlo con i paroci, una delle cose di cui mi lamento è che dico, fortunato te, che ti alzi la mattina, ti fai la barba e decidi tutto. Perché il paro, quel legale rappresentante, magari si consulta con la commissione consultiva, non so, com'è che si chiama quella per le finanze, le risorse, però decide da solo. Decide da solo. Perché la struttura cattolica è personale, mentre noi siamo collettivi. Le donne possono fare il pastore, qui c'è stato per poco tempo una donna pastore, donne e uomini, altra fatica, perché almeno tra uomini ci si capisce che con le donne è durissima e viceversa, è vero che viceversa è durissima, succede anche in famiglia. Cosa significa per l'otto per mille questo fatto di una chiesa democratica? Perché? Perché Gesù Cristo ci ha voluti fratelli e sorelle. Anche Valdesio, il fondatore di questo movimento, non era il capo. Certo, è quello che ha dato il via. Contano le persone, non è che non contano. Però ha creato una comunità in cui insieme si prendono le responsabilità. Dobbiamo decidere qualcosa, andiamo di qua o andiamo di là? Lo decidiamo insieme. A maggioranza non è un gran sistema, ma il meno peggio dei sistemi inventati dall'umanità. E se si decide a maggioranza che si va di là, si va di là. Cosa significa questa democrazia? Significa che i sistemi di prendere le decisioni devono essere fatti in modo che chiunque possa capire, possa scegliere, possa controllare. Un altro aspetto della gestione dell'otto per mille è questo. Noi abbiamo dimostrato che è possibile gestire denaro pubblico, anche in quantità importante, in modo trasparente, dettagliato, controllabile. Noi diciamo che facciamo una cosa? Andiamo a vedere se è vero. E allora se voi andate su internet o se leggete ogni tanto quella pagina di giornale, anche la stampa Repubblica, di cui compriamo la pubblicità per pubblicare il nostro bilancio una volta all'anno, potete fare i conti e controllare se è vero che non un euro è stato speso se non per i progetti che finanziamo di area sociale, culturale, sanitaria. C'è qualcuno che ci fa i conti? Abbiamo recentemente avuto un signore che su un blog ha detto che i conti dei Valdesi non quadrano. Perché è andato a fare i conti? E noi ci siamo resi conto che non avevamo comunicato che, per esempio, sui progetti del 2013, circa 38 milioni di euro che dobbiamo rendicontare, noi non abbiamo ancora spiegato che non avendo finito la distribuzione di questi denari ancora per il 2013, che si è concluso, la rendicontazione che è attualmente su internet è una documentazione parziale e non completa. Quindi abbiamo subito fatto un comunicato perché questo signore non fa i conti con la macchinetta. Mancavano dei soldi. Dove se li sono imboscati? Aveva ragione, ci ha controllati e ha verificato che qualcosa non quadrava. È la dimostrazione che si può rendere conto, che si può essere trasparenti e che il controllo pubblico ci può essere, perché basta uno che dice stai raccontando bugie, che poi non si viene a sapere. Bisogna però voler essere trasparenti, bisogna voler presentare i conti, soprattutto non bisogna avere nulla da nascondere. Perché se dici una cosa e ne fai un'altra, che è un po' una tradizione italiana, no? E poi, di nascosto, succede altro. Ecco, noi pensiamo che invece una chiesa deve dire e deve praticare quello che dice e la democrazia, in fondo, è trasparenza e controllo. Rendere conto di quello che si fa. Qualcuno di noi abbiamo proposto al governo, bisognerebbe imporre per legge che chi riceve l'otto per mille sia obbligato a rendere conto in modo preciso, dettagliato e trasparente dove vanno a finire questi soldi. Imbarazzo. Lo fanno tutti per grandi cifre, ma nelle grandi cifre non si sa che cosa c'è. Il Ministero... Cos'è l'economia o chi è che riceve i nostri bilanci dettagliati? Il Ministero degli Interni, giusto? Il Ministero degli Interni riceve ogni anno per legge il bilancio dettagliato dell'otto per mille di tutte, adesso, otto, sette confessioni religiose che ricevono l'otto per mille, anche quello della Chiesa Cattolica. Non lo rende pubblico. Perché è un bilancio che controlla l'ufficio culti del Ministero degli Interni. L'ufficio culti del Ministero degli Interni. E il governo ci dice che bisognerebbe che voi riusciste a convincere gli altri di rendere pubblici questi... Però in Italia sappiamo che è difficile. È un discorso difficile. Non fa parte della nostra cultura. C'è la privacy, c'è la riservatezza, è una questione personale. E intanto, con i soldi dei cittadini, sappiamo che si fa di tutto e solo in parte quello che bisognerebbe fare. Perché noi abbiamo scelto di fare così? Non perché siamo filantropici, non perché siamo democratici, non perché siamo di un partito o dell'altro, ma perché pensiamo che una Chiesa, testimone della verità, deve dire la verità e anche farsi controllare da chiunque per vedere se si dice la verità. Soprattutto sui soldi. Sulle risorse. Perché è un punto importante in cui si può dimostrare se si dice la verità oppure no. Ecco, spiegato un po' perché noi abbiamo fatto questa scelta di condivisione, c'è anche l'aspetto della laicità, dice ma se tu sei una Chiesa come fai ad essere laico? Eppure è possibile perché noi pensiamo che bisogna in una società che ci sia la libertà di credere e di fare il proprio culto, praticare la propria religione, ci sia la libertà di non credere, ci sia la libertà di credere in modo diverso e la collaborazione tra tutti è fondamentale e allora noi pensiamo che utilizzare queste somme restituirle in Italia e al mondo non solo con i nostri enti ma anche con altri aiuti noi a essere aperti e aiuti gli altri a capire che ci può essere un rapporto anche per chi non crede con chi crede utile per il bene di tutti. Lo facciamo perché pensiamo che una Chiesa debba essere cristiana debba essere una Chiesa con le persone aperte capace appunto di essere vicina trasparente non chiusa in se stessa insomma abbiamo cercato di mettere nella nostra nel nostro utilizzo di questa importante risorsa che abbiamo a disposizione per il bene di tutti alcuni dei principi che nelle nostre Chiese nella nostra tradizione nella nostra pratica utilizziamo costantemente da secoli un po' più di otto secoli sono che abbiamo questa tradizione non è che le cose vadano sempre bene a volte abbiamo anche le nostre difficoltà e qualche volta anche i nostri fallimenti ma pensiamo che questo sia un modello di Chiesa che non soltanto corrisponde alla fedeltà con l'Evangelo che per una Chiesa non è poco ma corrisponde anche a quello che sarebbe il meglio per un Paese come l'Italia che ha tantissime possibilità capacità avrebbe tantissime risorse ma anche dei mali secolari forse millenari da cui non riesce a liberarsi questo è un problema specifico del nostro Paese non soltanto di tutti i Paesi occidentali l'Italia ha un problema culturale specifico che non riesce a superare non ci si fida degli altri non ci si fida del controllo democratico non ci si fida della trasparenza non ci si fida dei criteri oggettivi di merito ci sono le cose che conosciamo bisogna riuscire a venire fuori altrimenti purtroppo i nostri problemi probabilmente continueranno a essere pesanti rispetto a quella che è la situazione di altri Paesi in Europa che riescono quando ci sono dei problemi a risolvere in maniera molto più veloce più rapida ed efficace di noi perché un motivo c'è e noi pensiamo che sia anche questo